Solo questa mattina sono 5-6 persone che mi hanno chiesto informazioni sul vaccino, ieri una decina almeno. Caso di meningite a Montebelluna e nella marca Scoppia la psicosi, farmacie prese d'assalto ed uffici della Madonnina subissati da telefonate per richieste di vaccinazioni e così il calendario vaccinale trevigiano già programmato si è oltremodo riempito. Oltre 3.000 le persone che in questi ultimi giorni hanno fissato l'appuntamento per la vaccinazione da oggi fino al prossimo mese di aprile. Una lunga lista d'attesa visto che queste 3.000 persone vanno ad aggiungersi ai 3.500 bimbi nel primo anno di vita già previsti e ad altrettanti 14 anni chiamati per il richiamo. Offriamo la vaccinazione gratuita per tutti i bimbi entro il primo anno di età, ci sono tre dosi che vengono fatte al terzo, al quinto e al tredicesimo mese l'affluenza è ottima e riusciamo a garantire la vaccinazione a tutti i bimbi. Per neonati e ragazzi la vaccinazione è gratuita e fa parte del calendario vaccinale regionale, per gli altri invece la vaccinazione è a pagamento e sono in molti a chiederla allarmati dai numerosi casi di meningite verificatisi in varie regioni d'Italia. Il caso della 74enne ricoverata in rianimazione a Montebelluna, ribadiscono i sanitari, non è del tipo contagioso. L'anziana infatti è stata colpita da infezione da pneumococco, quindi la forma che non dà origine a focolai di epidemia né necessita di profilassi sui familiari e sulle persone che hanno avuto stretti contatti con la paziente. È un germe che è facilmente debellabile con l'antibiotico terapia e con la classica terapia sintomatica. Ma nonostante le rassicurazioni non si sono placati i timori di molti cittadini. Del resto, nella marca è ancora ben presente la memoria dell'epidemia del 2007, quando venne organizzata una campagna di vaccinazione di massa per immunizzare migliaia di giovani trevigiani. Un po' di timore c'è, però comunque per i bambini assolutamente bisogna vaccinarli, assolutamente sì. Credo che bisogna che vaccinano i bambini, non possono fare una cosa del genere, non vaccinarli, è molto pericoloso.